Saliamo a bordo degli elicotteri del quindicesimo storm SART dell'Aeronautica Militare. Intervista al comandante, il colonnello Giacomo Zanetti. Buonasera, siamo al quindicesimo storm con il comandante, il colonnello Giacomo Zanetti. Buonasera. Comandante, possiamo dire che il quindicesimo storm ha una doppia natura, quella del recupero del personale e quello del supporto alla comunità civile? Il compito principale del quindicesimo storm è quello di intervenire in caso di necessità di recupero dagli equipaggi militari. Per fare questo si addestra in continuazione per poter operare in tutte le condizioni climatiche sia di giorno che di notte. Questa capacità viene poi messa a beneficio della collettività e quindi viene anche impiegato in caso di calamità, in caso di condizioni di pericolo del personale civile. Per fare questo c'è un continuo addestramento di tutto l'equipaggio, di tutto il personale dello storm per poter intervenire in queste situazioni critiche che mettono veramente in condizioni difficoltose il personale civile. Il quindicesimo storm è una delle componenti dell'aeronautica militare in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie alla capacità di impiego di giorno come di notte in condizioni meteo marginali. Come si addestrano i piloti e gli aerosocorritori per raggiungere questo livello di impiego? E quanto lavoro occorre per arrivare a questi livelli di professionalità? Il quindicesimo storm interviene in tutti gli ambienti, sia marittimo sia in condizioni di terreno avverso, quindi in montagna. Per fare questo si addestra in continuazione tutti i giorni, considerate che la prontezza dello storm è H24 a 375 giorni all'anno. Questo continuo addestramento è sia in ambito dell'equipaggio e del personale in supporto all'equipaggio, sia in collaborazione con gli altri corpi dello Stato. Soprattutto facciamo attività con la Guardia Costiera, quindi continui addestramenti impiegando anche i mezzi della Capitaniera di Porto e soprattutto per l'attività in montagna con il personale del soccorso alpino. Loro sono i nostri referenti per l'attività in condizioni di terreno montagnoso. All'interno degli equipaggi abbiamo in particolare l'aeroscorritore, il nostro uomo sul terreno. L'aeroscorritore deve essere addestrato, pronto e equipaggiato per poter operare in tutte queste condizioni, quindi sia in mare sia in montagna. Per fare questo, a parte l'addestramento in volo, fa anche tutto l'addestramento propedeutico sul terreno, quindi deve essere in grado di operare in autonomia per anche giorni, in maniera tale di poter sopravvivere, di dare il supporto e il soccorso necessario al personale che dobbiamo recuperare. E' proprio per questo che noi chiamiamo il nostro personale, i nostri aeroscorritori, sono i nostri jolly che possiamo operare su tutte le situazioni. Colonnello Zanetti, ci siamo sempre chiesti, ma come viene attivata l'aeronautica militare quando bisogna cercare un'imbarcazione in difficoltà o un disperso in montagna? Se ci trovassimo nella necessità di richiedere un soccorso, che procedura dovremmo seguire per attivare l'intervento SAR? I nostri equipaggi vengono allertati e tascati dalla desk RCC, Rescue Coordination Center, che è appunto al COA. Tutte le richieste arrivano al COA in base a quella che è la situazione emergenziale, per cui se abbiamo un intervento in mare dobbiamo considerare l'importanza e chi gestisce il soccorso, quindi l'autorità coordinatrice. In questo caso per la parte in mare è la guardia costiera, che poi richiede attraverso il desk RCC l'intervento del nostro assetto. Nel caso invece che ci siano necessità di intervento in zona montagnosa o comunque sul terreno, solitamente c'è la presenza del soccorso alpino e quindi saranno loro tramite i loro canali ad attivare sempre il desk del RCC del COA di Poggio Renatico. Ulteriori possibilità di intervento, di richieste, possono arrivare per il tramite della prefettura, direttamente alla sala situazioni di vertice della Forza Armata o alla desk RCC, il quale poi passerà le esigenze e valuterà quale assetto andare a impiegare. Nel caso di una persona che si trova in difficoltà potrà chiamare il 118 per poter avere un intervento diretto o il numero dedicato appunto della guardia costiera nel caso si trovasse invece in condizioni di difficoltà in mare. La rapidità di risposta e il fattore tempo sono elementi vitali nelle attività di soccorso. Qual è il vostro tempo medio di risposta e di intervento e quanto è importante la coordinazione tra piloti, aerosoccorretori e personale medico-sanitario? La prontezza al decollo degli equipaggi può variare da un minimo di 15 minuti a un massimo di 2 ore, dipende dalla situazione contingente. È fondamentale che ci sia pieno affiatamento da parte dell'equipaggio e l'addestramento è proprio dedicato a questo, a poter operare quasi in maniera automatica all'interno dell'equipaggio e soprattutto nelle situazioni più complicate come un recupero con vericello durante una situazione di metro marginale di notte devono esserci degli automatismi e delle capacità di affiatamento dell'equipaggio che vengono appunto sviluppate con continuo addestramento. Anche nella lotta al coronavirus il quindicesimo stormo è stato in prima linea per la salvaguardia della comunità ed è stato impiegato tutto durante l'emergenza sanitaria. Quali sono stati gli assetti certificati ed impiegati e qual è stato il contributo del reparto? In questa situazione di pandemia il quindicesimo stormo ha messo in campo tutti i propri assetti quindi sono stati impiegati HH139, HH212 e HH101. Sono stati fatti trasporti in biocontenimento utilizzando delle barelle adeguate, delle barelle dedicate appunto per poter isolare il personale che venisse trasportato. Lo stormo di Cervia è stato impiegato anche all'inizio della pandemia per dare supporto ai C-130 che facevano lo stesso tipo di trasferimento del personale verso altre regioni e altre località. è da mettere comunque in evidenza la gestione della pandemia da parte dello Stato Maggiore Difesa per il tramite del Comando Operativo di Vertice Interforze che ha gestito le varie attività che hanno interessato tutta la nazione. E ora parliamo degli elicotteri. Alla fine del 2020 è stata consegnata la prima macchina versione B del 139. Questi nuovi elicotteri sostituiranno quelli della versione A o andranno ad aggiungersi? Quali sono le differenze più importanti a livello tecnico ed operativo tra le due versioni? Lo stormo ha ricevuto durante l'anno questa nuova versione dell'HH 139. Questi si vanno a sommare a quelli già in precedenza disponibili allo stormo. Quindi anche la versione alfa verrà comunque modificata per portarla allo standard attuale del 139 Bravo. Le caratteristiche principali che li differenziano sono una possibilità di impiegare un vericello doppio rispetto al singolo che ha il 139 Alpha e la differenza maggiore che dà capacità sicuramente superiori sono dal punto di vista avionico. Ha un sistema di navigazione più evoluto e in particolar modo ha la disponibilità di impiegare una mission console che permette appunto di andare a ottimizzare quelle che sono le ricerche tramite la torretta elettroottica che ha anche capacità termiche. Uno degli ultimi interventi appunto tramite questa torretta è stato possibile verificare la possibilità di individuare personale anche in condizioni di ostacoli o comunque di vegetazione in ambiente notturno. E veniamo all'elicottero HH-101. Quali sono le caratteristiche tecnologiche che contraddistinguono questo elicottero e quali possono essere ritenute le più importanti per operare e sopravvivere in un contesto operativo complesso? L'HH-101 è un vettore sicuramente versatile. Le caratteristiche principali che lo contraddistinguono rispetto ad altre versioni sono la possibilità di rifornimento in volo che dà una capacità operativa di gran lunga superiore a equivalenti della stessa tipologia, la possibilità di impiegare delle misure di autoprotrazione, di collegamento link 16 e di comunicazione con interfaccia con sistemi di quinta generazione. Altri sistemi peculiari sono quelli di autodifesa, quindi con l'utilizzo di minigun e una grande possibilità di sopravvivenza in caso di atterraggi pesanti dovuto alla resistenza della cellula. Ringraziamo il colonnello Giacomo Zanetti per il tempo che ci ha dedicato e tutto il personale del quindicesimo stormo dell'aeronautica militare. Ringraziamo il nostro canale